Ciao sono Luca Manelli e in questo video tutorial voglio farti vedere come poter andare a creare una combinazione di sovrascrittura grafica con relative regole in modo tale da poter rappresentare il modello tridimensionale trasparente con evidenziato solo ed esclusivamente quelle porte dove la proprietà è identificata come uscita di emergenza. In questo modo avrai la possibilità di capire il metodo da utilizzare e una volta capito il metodo potrai andare a applicare questo metodo a tutti gli elementi del modello in modo tale da poter evidenziare gli elementi del modello di Archicad in base a delle proprietà specifiche. La prima cosa che vado a fare è quella di creare la combinazione di sovrascrittura grafica. Per poterlo fare posso utilizzare le opzioni veloci che si trovano nella parte bassa della finestra e fare clic sul pulsante combinazioni sulla scrittura grafica. Mi si apre la finestra delle combinazioni dove nella parte sinistra ho l'elenco di tutte le combinazioni presenti. Per poter creare una nuova combinazione faccio clic sul pulsante nuovo in basso a sinistra. Viene creata una combinazione a cui devo dare logicamente un nome. Il nome di questa combinazione che voglio andare a creare è controllo porte uscita di emergenza. Una volta creata viene inserita all'interno dell'elenco e quando la vado a selezionare posso vedere che non ho regole associate e per poter andare a inserire delle regole devo andare ad agire sui pulsanti che trovo nella parte inferiore. Posso andare a selezionare una delle regole presenti all'interno del file oppure posso creare delle nuove regole. Nel mio caso le vado a creare nuove per cui faccio clic su aggiungi nuova regola. Per creare una nuova regola posso crearla da zero oppure duplicare una regola esistente. Nel mio caso le vado a creare tutte e due le regole partendo da zero. A questa regola do il nome tutto trasparente nel 3d e confermo con ok. Questa regola ora deve essere impostata. Per poterla impostare devo andare all'interno della finestra gestione delle regole. Seleziono la regola posso cliccare sul pulsante che ho nella parte destra della finestra oppure sul pulsante gestione delle regole. E' identico per cui mi porta sempre alle regole di sovrascrittura. Una volta all'interno di questa finestra posso lavorare sulla mia regola. Prima di andare a lavorare sulla regola una piccola notazione sull'organizzazione delle regole. Infatti le possiamo andare a organizzare in gruppi. Per poter creare un gruppo basta andare a fare clic su questo pulsante che mi permette appunto di creare un nuovo gruppo all'interno dell'elenco a cui posso dare un nome. Nel mio caso vado a nominare questo gruppo regole controllo modello BIM ad esempio. E per poter inserire la mia regola tutto trasparente nel 3D all'interno di questo gruppo non devo far altro che andarla a trascinare all'interno. Questa è l'operazione da fare. Ora vado a impostare la regola per cui devo lavorare su tutti gli elementi tridimensionali. All'interno dei criteri dove ho il tipo di elemento che è sempre aggiunto in automatico all'interno delle regole di sovrascrittura. Vado a selezionare tutti i tipi 3D. In questo modo lavorerò su tutti i tipi tridimensionali. Puoi vedere che all'interno dell'elenco posso andare a scegliere magari un solo tipo di elemento su cui andare ad agire. Nel mio caso appunto tutti gli elementi tridimensionali del modello. Ora devo decidere come questi elementi devono essere rappresentati. All'interno della finestra tridimensionale dovrò andare ad agire per forza sulle superfici per cui attivo checkbox superficie e visto che devono essere trasparenti e la sola scelta di una superficie non mi permette di visualizzarli trasparenti devo andare a selezionare il pulsante che mi permette di scegliere la superficie come colore pieno e con una trasmittanza. Nel mio caso imposto il colore bianco e imposto una trasmittanza pari al 50. In questo caso sarebbe 50%. Confermo con ok. In questo modo ho dato delle impostazioni a questa regola e confermando con ok andrò a visualizzare la mia combinazione all'interno della finestra 3D. Possiamo vedere che tutti gli elementi sono resi trasparenti. Navighiamo un attimo il modello per poter vedere meglio. Allora notiamo una cosa che sì gli elementi sono trasparenti ma quando abbiamo tanti elementi abbiamo una trasparenza che è molto limitata per cui cercherò di andare a rendere ancora più trasparenti gli elementi. Altra cosa visto che dobbiamo modificare la regola possiamo vedere che tutti gli elementi vengono disegnati con le loro penne per cui possiamo magari andare ad aggiungere alla nostra regola tutto trasparente di essere magari disegnati tutti con una stessa penna. Per poter andare a inserire queste due modifiche all'interno della regola ritorno all'interno delle combinazioni e vado ad agire sulla mia regola. Per cui aumento la trasmittanza magari al 75 e per quanto riguarda la penna che disegna gli elementi vado ad attivare il checkbox penna linea marker testo e vado a selezionare una penna tra quelle presenti all'interno del set di penne. Potrei ad esempio andare a selezionare una penna 241 che è un grigio e una volta fatta questa scelta basterà confermare con ok e confermare con ok sulle combinazioni. Questo mi permetterà di visualizzare il modello tridimensionale con quelle impostazioni fatte. Per cui abbiamo le superfici molto ma molto più trasparenti e abbiamo un uniformità di penna. Se la penna è troppo chiara perché può essere magari troppo chiara che ci permette di leggere poco il modello possiamo rientrare nella nostra regola e andare a modificare la penna. Magari vado a selezionare un grigio un pochettino più marcato rispetto a quello che era molto 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 leggero. Confermo con ok confermo con ok e ora abbiamo la possibilità di leggere meglio il modello 3d. Abbiamo fatto l'impostazione della prima regola adesso andiamo a dedicarci sulla regola che andrà a sovrascrivere le porte identificate come uscita di emergenza. Prima di andare a definire la regola mi sposto in piante e vado a selezionare una porta in questo caso una porta del vano scale. Apro la finestra impostazioni e all'interno del pannello classificazione proprietà faccio scorrere le varie proprietà fino ad arrivare alle proprietà dedicate all'apertura. Possiamo vedere che abbiamo la regola uscita di emergenza. In questo caso è identificata come vero perché quella all'interno del modello è un'uscita di emergenza che va appunto sul vano scale. Per cui dobbiamo andare a impostare una regola che identifica la proprietà uscita di emergenza come vera. In questo modo faremo all'interno della regola faremo in modo che tutte quelle porte verranno colorate in un certo modo con una certa superficie. Per cui rientro all'interno della fianza 3d in modo tale da poter lavorare su questo tipo di combinazione. Apro la combinazione controllo porti di emergenza e vado a creare una nuova regola. Come dicevo prima vado a creare una regola partendo da zero per cui la vado a nominare. Chiamo porte uscita di emergenza confermo con ok e ora vado a editare la regola. Per quanto riguarda i criteri come tipo di elemento vado a selezionare le porte e logicamente non saranno tutte le porte ma saranno quelle che hanno la proprietà uscita di emergenza impostata come vero. Per cui faccio clic su aggiungi vado a aprire le proprietà potrei fare una ricerca ma in questo caso almeno vediamo tutte le proprietà che abbiamo a disposizione. Nel nostro caso dobbiamo andare a visualizzare le proprietà aperture uscita di emergenza. La seleziono e l'aggiungo. Devo impostare come uscita di emergenza non non è definito ma è e una volta scelto è posso andare a selezionare vero per cui andrò a sovrascrivere tutte le porte dove la proprietà uscita di emergenza è impostata come vero. Ora devo scegliere il tipo di sovrascrittura per cui imposto superficie anche in questo caso vado a definire una superficie con un colore vado a selezionare magari il colore blu e per quanto riguarda il tipo di penna da utilizzare per queste porte posso andare a selezionare magari un colore blu oppure un colore nero. Adesso qua dipende un attimino da come le vogliamo dare evidenziare. Una volta fatte queste scelte confermo con ok e confermo con ok. All'interno della finestra tridimensionale non ho elementi sovrascritti per quanto riguarda le porte non perché non abbiamo porte con la regola uscita di emergenza impostata su vero ma perché dobbiamo andare a lavorare sull'ordine delle regole all'interno della combinazione. Nel mio caso devo portare tutto trasparente al di sotto delle porte uscite di emergenza della regola porta uscita di emergenza perché in questo modo come era impostato prima Archicad andava a rendere tutti gli elementi trasparenti invece così come è impostata ora andrà a leggere prima le porte di emergenza e poi tutti gli elementi trasparenti. Questo per farti capire che l'ordine con cui le regole sono inserite all'interno della combinazione è importante perché permette di andare a far leggere per primo la regola che si trova nella parte alta dell'elenco e poi piano piano tutte le altre regole. Ora se confermo con ok posso vedere che all'interno del modello sovrascritto abbiamo tutte le porte identificate come uscita di emergenza che sono evidenziate con il colore blu. Ora se vado ad aggiungere ulteriori porte identificate come uscita di emergenza le vedrò apparire all'interno del modello in modo tale da poter appunto identificare tutte quelle porte così impostate e poter controllare il modello ed eventualmente magari anche andarlo a stampare all'interno di un layout di Archicad. Ecco in questo modo è potuto vedere come creare una combinazione sovrascrittura grafica e creare due regole che possono andare a lavorare sull'intero modello e poi in maniera specifica su una proprietà inserita all'interno degli elementi.